Fare video su YouTube è un ottimo modo per farsi conoscere, ma al tempo stesso non hai paura di consegnare tutti i segreti della tua professione nelle mani di chiunque ti segua? Questa è una buona domanda che mi è stata posta da più di una persona e quindi vado a realizzare oggi un contenuto per spiegarvi perché no, non sono affatto preoccupato che qualcuno possa rubare i segreti del mio lavoro e vado a spiegarvi perché nel corso di questo video. Innanzitutto vi ricordo che se argomenti come questo vi interessano potete iscrivervi subito cliccando il bottone qui sotto, attivate anche la campanella in modo da non perdere gli aggiornamenti. Lasciate anche un like a questo video che mi aiuta e non poco anche se voi non ve ne accorgete. Molto bene, per entrare nell'argomento di oggi voglio raccontarvi un aneddoto. Nel momento in cui ho cominciato ad approcciare questa professione, la prima cosa che ho fatto ovviamente è stata cominciare ad autofinanziare le mie produzioni. Per cui che cosa facevo? Prendevo un modello o una modella pagando e andavo in una sala posa pagando e realizzavo delle foto orribili perché erano le prime che facevo, quindi erano brutte, però lo facevo per poter avere del materiale da proporre. Dunque che cosa succede? Ovviamente mettendo in moto un procedimento di questo tipo vieni a contatto con delle persone. Nello studio che io affittavo c'era del movimento, c'erano dei fotografi che si avvicendavano e quindi tramite il proprietario dello studio, che era una persona squisita di cui ho un ricordo meraviglioso, purtroppo quello studio ha chiuso, non sto neanche a farvi il nome proprio perché ha chiuso, tramite il proprietario dello studio vengo a contatto con un altro fotografo che stava sempre lì ad affittare la medesima sala posa. Non faccio il nome neanche di quest'altro fotografo perché non mi piace parlare male delle persone in contumacia, quindi vi vado a raccontare semplicemente i fatti. Questo fotografo comincia a proporci delle cose come assistenti, come eravamo più di una persona, c'eravamo io e un altro ragazzo. Ora, mentre io rimango sempre un po' scettico di fronte alle narrazioni degli altri, quindi diciamo che è difficile che io mi appassioni completamente a quello che una persona mi sta raccontando, ci vuole del tempo. Mi ricordo molto bene che invece l'altro ragazzo che lavorava già da un po' come assistente presso di lui era completamente perso per questa cosa, era ammaliato da questo mondo, gli avevano fatto fare delle scelte secondo me anche sbagliate perché nel momento in cui lui era entrato come assistente gli avevano detto adesso devi assolutamente prenderti una fotocamera di un certo tipo. Ok, che fotocamera mi prendo? Lui aveva due possibilità secondo me, poteva prendersi una fotocamera nuova al passo coi tempi spendendo una certa cifra, invece gli hanno fatto prendere una fotocamera full frame a miraglia usata, quindi una fotocamera di un altro tipo, quindi con la stessa cifra, si è preso una fotocamera di dieci anni prima e quando avrebbe potuto prendersi una fotocamera attuale, ora il punto è, a lui che cosa serviva una miraglia? Assolutamente a niente, quindi secondo me gli hanno fatto fare delle scelte sbagliate proprio, intendiamoci stiamo parlando di fotografie di studio eh, quindi una miraglia, c'è dodici scatti al secondo in studio, il flash non ti sta neanche dietro, a cosa ti serve una miraglia in studio? Secondo me a niente, soprattutto lui si era lasciato a maleare dalla quantità di belle ragazze che bazzicavano quegli studi, perché insomma quest'altro fotografo più anziano aveva una bella corte di fanciulle che si avvicendavano, modelle, modelline, shooting in costume da bagno e cose del genere. Il mio collega era completamente flippato per questa cosa, era letteralmente lì che, ah che bello questo mondo, lo capisco, era più giovane di me, si era lasciato prendere da questa cosa. Ora il punto qual è? Io mi ricordo molto chiaramente che questo fotografo ci faceva lavorare come assistenti, ma era molto geloso dei suoi segreti, era molto attento che noi non capissimo che cosa stava facendo. Un pochino di più con me, probabilmente perché io essendo più diffidente nei suoi confronti, lui era più diffidente nei miei, quindi lui letteralmente a me non voleva lasciar trasparire niente di quello che stava facendo. Mi nascondeva gelosamente le impostazioni della fotocamera e mi nascondeva gelosamente anche la disposizione dei flash per quanto possibile, perché li vedevo. Però era palpabile che lui non avesse piacere che noi stessimo lì a sbirciare che cosa faceva. Mi ricordo proprio che quando ci mettevamo a montare e smontare la roba, lui veramente ci diceva fate in fretta con quei flash e non state lì a guardarli, perché non aveva piacere che noi stessimo a capire che cosa aveva fatto. Voi direte perché ci racconti questa cosa? Vi racconto questa cosa per un motivo semplicissimo, per farvi capire perché io non sono per niente preoccupato nel momento in cui racconto quello che faccio durante il mio lavoro a voi che mi seguite da casa. Non sono preoccupato per questo, perché ci sono due modi in cui potete scoprire che cosa io faccio durante la mia giornata lavorativa. Potete scoprirlo da me o potete scoprirlo da qualcun altro, perché c'è qualcun altro che ve lo racconta. Ci sono tante persone che svelano questi segreti. Ovviamente il metodo di lavoro è personale, quindi io vi dico alcune cose del mio metodo di lavoro personale, ma sono tranquillissimo nel farlo perché molti di voi non si troveranno bene a farlo uguale, quindi vi sto consegnando dei segreti che magari neanche userete. Questa è la prima cosa. Ma la seconda cosa è che comunque, in ogni caso, se non ve lo dico io, lo venite a sapere da qualcun altro, e a sto punto io preferisco essere io a raccontarvi certe cose, perché non voglio che ci si ricordi di me come io mi ricordo di questo mastro fotografo, che fondamentalmente non sapeva fare chissà cosa, sapeva veramente quelle tre cosine. Aveva imparato a impostare le luci flash in quella maniera e lui le impostava sempre nello stesso modo, mai visto impostare in una maniera diversa, lui faceva sempre la stessa cosa, impostava la camera sempre nello stesso modo, perché poi un bel momento dici ok va bene, però ho visto come la, cioè anche se tu me lo nascondi, ho capito come la imposti, cioè lo vedo, hai impostato f8, stai scattando a un centoventicinquesimo e starai scattando a ISO 100, ISO 200, cioè sono sempre quelle le impostazioni che si usano in studio per scattare, salvo casi molto particolari, per cui ti becco, prima o poi ti becco, anche se tu fai così e mi nascondi la fotocamera, io l'ho capito cosa stai facendo. Il punto è questo, io non voglio rifare quel tipo di figura, non voglio essere quel tipo di fotografo, che ti nasconde le impostazioni, che quando gli chiedi una cosa ti risponde con una mezza frase perché non te lo vuole dire, io non voglio essere quello, perché è inutile. Intanto è inutile perché così ti fossilizzi, perché io mi ricordo lui com'era, lui era arroccato su quelle quattro cose che sapeva fare, faceva quelle, te le nascondeva perché non aveva piacere che tu gli rubassi i suoi segreti, però il punto è che un po' alla volta glieli rubavi comunque, e una volta che avevi finito di rubargli li ti rendevi conto che erano veramente due cose. Cioè lui sapeva fare quello, era bravo eh, per carità, però lui sapeva fare, sa, penso che non sia ancora in pensione, sa fare quello, sa fare fotografia fashion, quindi sa prendere delle ragazze che sono già belle da sole e le sa mettere in una posizione stranissima e poi fargli una foto con una luce per carità bella, ben fatta, e quello era il suo lavoro, lui faceva quello e solo quello. Io non lo so se sapeva fotografare un orologio, non so se sapeva fotografare una bottiglia, non so se sapeva fotografare interni, a proposito vi ricordo che vi lascio in descrizione il link per andare su Amazon a scoprire il mio manuale di fotografia di interni, ho fatto una fatica bestia, non tanto a realizzare il volume quanto a caricarlo su Amazon Publishing, un incubo, per cui vale la pena andare a dargli un'occhiata solamente per quello, ma non voglio dilungarmi su questo adesso. Io non so lui quanti generi fotografici avesse approfondito, secondo me ben pochi e comunque sono assolutamente sicuro che da anni e anni stesse scattando solo belle fanciulle in studio con degli abiti strani, per cui io non voglio neanche fossilizzarmi in questo modo, a me piace continuare a esplorare cose nuove con anche la prospettiva di portarle sul canale per farvele vedere, così me le ripeto anch'io e consolido quello che già so, è un tutt'uno, è tutta una cosa che si tiene insieme per me e il fatto di raccontarvi come avvengono certi processi non mi preoccupa assolutamente, perché innanzitutto, come detto, preferisco essere io a dirvelo piuttosto che dovervi far andare da qualcun altro che vi dice le stesse cose e quindi io ho fatto la figura di quello che si vuole tenere i segreti, ma non ci sono neanche riuscito, perché comunque se volevate imparare una determinata cosa, faccio degli esempi, ho in programma un video sul bracketing, ho in programma un video sul focus stacking, queste cose, a parte ci sono già, se non ve le dico io, le trovate lo stesso, le trovate da qualcun altro, a sto punto preferisco dirvele io, così vi do la mia versione, vi affezionate al tipo di divulgazione che faccio e magari tornate sul mio canale, capito, preferisco essere io a dirvele queste cose, piuttosto che mandarvi da un altro, magari in inglese così fate più fatica, ma ci arrivate lo stesso e a quel punto, orgogliosi della fatica in più che avete fatto, quello che vi rimarrà di me è che io non ve l'ho voluto dire, perché a me questo è rimasto di questo fotografo, che lui non mi ha mai voluto spiegare le cose e io le ho capite lo stesso. C'è anche un ultimo motivo per cui non sono preoccupato delle cose che racconto, non sono preoccupato che ci siano diversi fotografi, perché comunque ormai sono un po' le persone che mi seguono, ma io non sono preoccupato che ci siano diversi fotografi che imparano da me, che quindi scattano le mie stesse cose, non sono preoccupato perché sono assolutamente consapevole che se io ci ho messo anni, perché comunque ci ho messo degli anni ad arrivare al punto in cui sono e non mi fermo, certo, quindi io continuo a progredire, a migliorare, a imparare cose, nel momento in cui voi guardate un mio video, non è che così sapete fare le stesse cose, quindi io non sono preoccupato che mi rubiate il lavoro, che qualcuno mi rubi il lavoro solamente perché ha visto tutti i miei contenuti 20 volte, perché non è sufficiente. Questi contenuti sono un punto di partenza, poi ci vuole pratica ed esperienza, quindi io non mi sto a preoccupare a dire allora se faccio il video sul bracketing e poi fanno tutti le foto in bracketing e poi allora il mio lavoro vale di meno perché a quel punto lo sanno fare tutti. No, non è così, non è così perché non è sufficiente fare il bracketing per scattare bene come me, non che io faccia chissà cosa, però non è sufficiente fare il bracketing per arrivare allo stesso livello mio, ci vuole tutta una serie di cose, ci sarà chi è più bravo di me e non fa neanche il bracketing e ottiene risultati migliori, però non è guardando un mio video sul bracketing che arrivi a fare esattamente la stessa cosa, quindi io non sono preoccupato per quello, non sono preoccupato perché anche nel momento in cui un fotografo bravissimo da casa che sta cominciando, che ha un sacco di talento, guardasse tutti i miei contenuti, non scatterebbe come me solo perché ha guardato i miei contenuti, magari svilupperebbe un suo stile partendo da quello che io gli ho insegnato, ma non andrebbe a scattare esattamente come me e non avrebbe la mia esperienza da subito solo perché ha guardato i miei contenuti, quindi ci metterebbe comunque del tempo. Poi mettiamoci dentro anche che siamo in un paese in cui, se sei giovane e hai appena cominciato e non ti conosci nessuno, fai una fatica devastante a entrare da qualche parte, quindi non sono preoccupato per quello anche perché avendo io ormai una certa età so benissimo che se arrivano dei nuovi fotografi giovani non vengono calcolati per tot anni, quindi continuano a chiamare i vecchi bacucchi come me e come il fotografo prima citato per anni prima di accorgersi che ci sono dei fotografi giovani che stanno entrando prepotentemente nella scena, quindi veramente non sono preoccupato per questo. Metteteci anche che comunque a me piace raccontare le cose, mi piace far vedere quello che faccio, quindi se da un lato non mi preoccupo dall'altro invece mi appaga il fatto di spiegare come vengono fatte determinate cose, perché magari uno viene sul mio canale proprio perché non le sa, quindi le vuole apprendere, e quindi il motivo per cui questo scambio funziona è che io comunque cerco di dare qualcosa, a differenza di altri cerco di far vedere come vengono svolti certi lavori senza nascondere le cose, magari non dico tutto perché comunque nel corso di un video mi dimentico qualcosa, magari una roba mi sfugge, allora dopo mi fate una domanda in un commento, cosa che vi invito sempre a fare, e a quel punto cerco di rispondere sempre a tutti, quindi perdonatemi se sono lento, ogni tanto qualcuno mi dice a me non rispondi, agli altri sì, cerco di rispondere a tutti però magari ci metto tempo perché se mi fate una domanda complicata, e non voglio dirvi la prima cavolata che mi viene in mente, magari sto pensando e studiando che cosa rispondervi, magari mi avete chiesto una componente particolare, e non voglio condirvi via dicendo si prendi Canon che va sempre bene, non è così, se mi dite qual è la full frame migliore che posso prendere, non mi va di condirvi via dicendo prendi la R6, vado a guardarmi due o tre modelli prima di darvi una risposta, quindi ci metto un pochino anche per quello magari, però è una cosa che mi piace fare, quindi ci tengo anche che sia fatta bene, e non mi va di nascondere le cose, perché tanto se non ve le dico io le imparate lo stesso, se volete imparare una cosa non sono certo io che ve la nascondo, che posso trattenervi dall'impararla, magari farete più fatica, ma quello che vi rimarrà da questa fatica è che io non ve l'ho voluta dire, per cui per questo motivo non sono preoccupato di stare a nascondere le informazioni, non sono preoccupato che qualcuno mi rubi il lavoro, e niente, questo è un motivo per cui potete stare tranquilli, che quando venite ad approvvigionarvi qui su questo canale, troverete solamente la pura e semplice verità fotografica, e questo è un ottimo motivo per cui posso invitarvi a iscrivervi al canale, attivando anche la campanella, e lasciando anche un bel like a questo video, perché con questa confessione fotografica vi ho dato un ottimo motivo per rimanere sempre sintonizzati. Signori, con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. iscriviti al canale